Dunque sperando che si veda, questo è il cronometer, grosso modo sto cercando di inquadrare un po' tutta la schermata oggi volevo mantenermi grosso modo, che grosso modo perché sono stato molto elastico con me stesso su tra i 40 e i 50 grammi di proteine e sono andato appunto a 47 e net carbs, vabbè come sapete il mio calcolo relativo del net carbs è basato su questo algoritmo in realtà sono decisamente meno e i grassi volevo rimanere diciamo tra i 160 e i 170 ora andiamo a vedere dove ho tratto queste proteine e il programma se scorro mi fa vedere dove spero che si veda, allora 37 grammi da salsiccia, 4,7 circa 5 grammi quindi dalle noci di macadamia 2,8 scusate che ho shiftato, 2,8 dalla panna, secondo me anche qua c'è qualche errore di calcolo proprio perché non ho utilizzato i valori proprio specifici della panna che ho utilizzato 2 proteine, 2 grammi dai sauerkraut e 0,2 dal limone ora vediamo un attimino i net carbs come me li conta 3,2 dal limone che mi sembra un'esagerazione macadamia 3 ci potrebbe stare addirittura 3 dalla salsiccia lo trovo più che improbabile 2,7 dalla panna ci potrebbe stare 1,2 dai sauerkraut direi escluso per via della fermentazione ok allora vediamo rapidamente in questo schema elementare che ho fatto dove ho preso i miei valori e questo è cronometer allora diciamo vado direttamente dove vabbè qui ci sono i calcoli relativi ai dati ricavati tra bilancia elettronica e cardio fitness watch io ho un iwatch peraltro non nuovo allora andiamo a vedere che il mio grasso corporeo è calcolato intorno al 10% oggi ho consumato un limone molto voluminoso per cui mi è bastato 100 grammi di panna che ho gestito nell'arco del pomeriggio iniziando con un bulletproof e compresa la panna utilizzata per il kefir che ovviamente qua non calcolo lo calcolo così perché ho fatto il kefir di panna 60 grammi di macadamia 200 grammi di salsiccia quindi ho tenuto conto che era una trita che visivamente era proprio uguale alla salsiccia in realtà non era salsiccia ma la percentuale di grasso l'ho calcolata così quindi visivamente sembrava salsiccia la carne e poi una coppa di sauerkraut a questo poi va aggiunto un pochettino di come si dice 30 grammi di olio d'oliva che non so perché non li ho visti ma giuro li ho messi vediamo se me li ero fumati vediamo dove erano inseriti perché l'olio d'oliva oppure i 30 grammi dovrebbero esserci beh adesso ovviamente eccolo qua olive oil 30 grammi che dava la bellezza di 265 kg cal quindi abbiamo tutti questi valori era solo un esempio per far vedere come impostare il fat fasting della giornata vogliamo sapere da dove mi provengono i grassi? allora 55 grammi dalla salsiccia 45 grammi rotti dalle macadamia 36 grammi dalla panna 30 grammi dell'olio d'oliva e tracce dai sauerkraut e lemon juice quindi facilmente se vogliamo regolare la questione per esempio se voglio ridurre le proteine ovviamente riducendo la salsiccia avrò meno delle 37 grammi indicati per i 200 grammi ma scenderò ovviamente non solo di lipidi ma anche di proteine ovvero o il contrario non solo di proteine ma anche di lipidi ovviamente essendo grassa più o meno al 20% scenderò in proporzione maggiore come proteine spero che sia tutto chiaro e questo è un po' diciamo l'impostazione base che volevo affrontare questi sono tutti gli elementi e non si fa altro che poi copiare con questo tasto qua gli elementi del giorno precedente oppure andare sul calendarietto e prelevare gli alimenti e adesso vabbè qua diventa un po' più complicato nella schermata ma c'è nel calendario che è questo di oggi 25 marzo andare a prendere gli alimenti e del giorno prima e si può fare tranquillamente on paste ovvero incollare e di volta in volta mi incollo gli alimenti questo spero che sia dimostrativo unitamente a tutti gli alimenti che vi manderò ho fatto questo aggiornamento proprio per la grande richiesta di oggi e lo sfrutterò un po' per tutti ciao una buona giornata a Patreon e a tutte le persone che seguo tocca a Andrea Rebiz